Quali sono le potenzialità, ma anche le criticità che l'intelligenza artificiale ha e potrà avere nello sviluppo della società? A parlarne a Milano, durante l'ultima edizione dei Luther Talks dedicata proprio all'AI, l'ex sindaco di New York Bill de Blasio. Grazie per l'intelligenza dell'intelligenza dell'intelligenza. Grazie per l'intelligenza dell'intelligenza dell'intelligenza.